Sono solamente i dieci anni, il compleanno di questi due rifugi, ma si festeggia anche il cinquantesimo del gemellaggio del comune di Trento con il comune di Charlottenburg. Quindi io passerei la parola al sindaco di Trento, poi al sindaco di Charlottenburg e poi il presidente Bassetti ci spiegherà un attimo la storia, ripercoverà un attimo la storia di questi due rifugi, appunto per tenere viva la memoria su queste cose, perché oggi un futuro di pace si costruisce attraverso la memoria dei luoghi, delle persone e degli avvenimenti. La parola al sindaco di Trento. Buongiorno da parte mia, anche a nome della presidente del Consiglio Comunale di Trento, Lucia Coppola che è qui con me e anche dei due consiglieri comunali, Dario Maestranzi e Claudia Postal. Detto questo, tre cose perché dobbiamo essere brevi. La prima, il cinquantesimo di gemellaggio, 1966, sindaco di Trento Edo Benedetti, sindaco di Berlino Charlottenburg, Gunter Spro. Queste due persone hanno deciso di dar vita a un gemellaggio, un gemellaggio, un rapporto prima di conoscenza, poi di amicizia, poi di collaborazione. Rapporti tra tanti sindaci, per Trento ne sono passati sei, successivamente, oltre a Charlottenburg, si è unito anche Wilmersdorf. Berlino, Charlottenburg, Wilmersdorf è un grande distretto della grande città di Berlino. Tanti scambi, tanta amicizia, gruppi canori e musicali che sono stati a Berlino e che sono venuti a Trento. Rapporti tra le società sportive, rapporti tra le persone. Abbiamo ricordato i cinquant'anni, l'abbiamo fatto ieri a Palazzo Geremia, a Trento, e lo facciamo anche oggi qui al Tuche. Due, è già stato introdotto e detto molto bene, due rifugi, due rifugi che si sono guardati magari un po' in canesco all'inizio, oggi non è più così. Due rifugi particolari dedicati a due grandi alpinisti, vogliamo ricordarlo, appunto Tuchet e Sella. E oggi siamo qui per ricordare appunto il centodecimo. Lo facciamo volentieri qui insieme. Insieme a chi? Insieme alla delegazione di Berlino. Qui ho l'amico collega Reinhard Naumann, che è il sindaco di Berlino, Charlotte Wilmerstow, e che ha avuto quest'idea, perché due anni fa ha scoperto che questo rifugio era stato costruito dai berlinesi. L'anno scorso è venuto con me a visitarlo e quest'anno abbiamo deciso di venire per questo momento ufficiale e ci ha fatto un gran regalo perché ci ha portato questi 32 giovani di una big band di Berlino, di Berlino Charlotte Wilmerstow, che poi ci aiuterà naturalmente con la musica. Ultima cosa, terzo passaggio, l'Europa. Ieri ho chiesto a Reinhard Naumann di scrivere una frase sul libro ufficiale del Comune di Trento e ne ha scritto una sola, nelle due lire, Birsind Europa. Noi siamo l'Europa. Io sono contento di essere qui oggi a gridare questo, l'Europa delle nazioni ma anche l'Europa delle città, delle città di Trento e di Berlino Charlotte Wilmerstow. L'Europa della città in un momento in cui abbiamo bisogno di Europa. Ieri abbiamo fatto un minuto di silenzio per ricordare anche le vittime dei tragici fatti di Nizza, tra l'altro in quell'occasione è anche deceduta un'insegnante che con alcune ragazze di Berlino, di Berlino Charlotte Wilmerstow e due ragazze che erano andate lì per festeggiare la conclusione dell'anno scolastico. Quindi l'Europa qui in montagna, perché le montagne uniscono, con la musica, perché la musica ha un linguaggio universale, insieme Trento e Berlino, per riscrivere la storia ma soprattutto per parlare l'unico linguaggio che conta, che è quello della pace nella nostra Europa e nel nostro mondo. Grazie a tutti davvero. Grazie mille grazie a tutti, mille grazie Alessandro e Lucia. Ein fröhliches Hallo hier auf der Berliner Hütte, auf Tuket. Un gioioso saluto da parte del sindaco Reinhard Aumann a tutte le persone che sono venute qui al Tuket. Oft sind meere und auch gebirge grenzen. Früher waren sie fast unüberwindbar. Jetzt sind wir gerade mal mit zwei Stunden hier in diese wunderbare Natur gelaufen. In Trento gibt es die Ausstellung mit dem Weißen Krieg 1914-1918 und es ist kaum vorstellbar, dass hier in dieser Situation, in dieser Natur, sogar der Krieg stattgefunden hat. Incredibile come noi trentini, gente di questo posto, abbiamo superato la guerra e dopo il 1918 in posti così selvaggi, così incredibili. Und das Ende des Zweiten Weltkrieges und der Barbarei der Nazis mit der Shoah liegt ja auch gerade mal gut 70 Jahre zurück. Und das macht uns auch denken, dass wir, nach der Zweiten Weltkrieg, die terrible tragedie des Nazis mit der Shoah und der Shoah über 70 Jahre sind wir noch hier. All Europa hat mit der Teilung gelitten, Berlin mit der Mauer ganz besonders, auch meine Familie war durch die Berliner Mauer getrennt. Jetzt leben wir wieder in einem vereinten Europa. Und er denkt besonders an Europa, aber in particolare a Berlin, der hat die Grenzen und muri. Und deswegen war die Idee vor zwei Jahren geboren von den Alpinisten von Trento, ja, hier hoch zu laufen und mal zu gucken, ob es hier etwas offizielles geben kann. Und als ich dann wusste, dass der Bergsteiger Chor unser Geschenk in Berlin sein wird von euch, hatte ich die Idee, Mensch, wir haben so eine tolle Big Band beim Heinz-Berg-Grün-Gymnasium, vielleicht können wir ein Konzert in der Stadt machen. Und im letzten Jahr bin ich dann hier gewesen und habe sozusagen mal Generalprobe gemacht, ohne Konzert. Und dann war die Idee geboren, vielleicht auch sogar hier oben das Big Band Konzert zu wiederholen. Vielen Dank. Und dann haben wir diese große Idee, in diesem spirito di riunificazione, in diesem spirito di riunificazione. In diesem spirito di riunificazione sono venuti a Trento e hanno detto, ma potremmo portare qui un bel gruppo di giovani in città a fare un concerto. Poi sono venuti qui con il presidente Bassetti, nell'idea appunto di riunire questi due rifugi, ha detto, ma il gruppo, questi giovani della Big Band, der Heinz-Berg-Grün-Gymnasium, potremmo portarli anche qui in montagna. È stata molto dura, ma ce l'abbiamo fatta. Bravo! Bravo! Und, genau. Und Berliner Jugendliche sind da nicht anders als jetzt in Trento oder Milano. Sie kaufen die Schuhe nach modischen Gesichtspunkten. Man hat nicht unbedingt Bergstiefel jetzt, um hierher zu laufen. Aber sie haben alles auf sich genommen. Manche waren jetzt sehr angestrengt, manche haben es super sportlich genommen. In jedem Falle ein riesen Applaus. Toll, dass ihr hier seid, ein Traum ist wahr geworden. Allora, dite, adesso volevo fare un grande applauso a questi giovani, i giovani sono tutti uguali.